Morello, tiro, ha segnato Morello su calcio di punizione al 32esimo minuto di gioco su calcio di punizione battuto lateralmente corto da Sassanelli ma cogliendo in pieno Rambotti c'è un tiro di Baldi, ha tirato Baldi ed ha pareggiato al 39esimo ha pareggiato Baldi come già successe ad Arezzo portando sull'1-1 l'Arezzo in un'ennesima occasione di attacco dei bianco-azzurri 15esimo calcio dalla bandierina, ancora Sassanelli Imborgia, ferma Carella e rete ha segnato Raffaele dopo un colpo di testa di Imborgia dopo un colpo di testa di Imborgia, dicevo c'è stata una giravolta di Carella che in un modo addirittura imprevedibile ha servito Raffaele che ha battito il tanto sospirato